Ben ritrovati dall'ippodromo del Mediterraneo di Siracusa che sabato 9 giugno ha sei corse in programma tra cui una bella condizionata che ricorda col premio Memorial Roberto Crali un amico dell'Ippica che a un anno della sua scomparsa viene così circondato dal ricordo dei suoi amici appassionati e addetti dell'ippodromo di Siracusa. Una condizionata sui 2100 metri in pista piccola per i tre anni e oltre dove sono cinque soggetti al via. Piaccio è la linea di Sugar e Kingston Sassafras parecchio regolare ambe due sempre sul podio immediati anche nel rientro di maggio come Sugar l'ha dimostrato. Interponiamo la valida alternativa di Playful Dude che risulta in forma attenzione a cuore del Grago che torna a Siracusa dopo due mesi di parentesi romano è un cavallo di ottima levatura. Airis idiamo un'allunga a lui che nel mese di maggio però non ha raccolto tanto quanto meritava quindi con tutte e cinque possibilità però sicuramente Sugar e Kingston Sassafras sugli altri. Andiamo a sentire un commento fuoricampo quello di Mister Brancato. Da me piace tanto il numero uno di Cuore del Grago, un cavallo che ultimamente in questi schemi ha fatto sempre bella figura insieme a Sugar, un cavallo ormai affermato sulla pista di Siracusa. Secondo me sono loro due la base del Memorial dedicato a Roberto Crali. E come alternativa il numero due di Irishidiamondi che allunga un po' la distanza però secondo me può essere abbastanza positivo. Andiamo alla quarta corsa, è 1200 metri in pista piccola per i tre anni e oltre, un handicap discendente da 9,9 dove Rock Round The Clock riduce da vittoria il 12 maggio, è molto irregolare, potrebbe essere la linea dettata con En Blu Amois che deve riscattare invece l'ultima performance su una distanza un po' più lunga quindi questi 1200 metri potrebbero vestire meglio all'allieva di Fabio Broggi. Oltre a questi due l'alternativa, sopra l'una è davvero scarica 54 kg, in primavera non ha affatto sbocciare tutte le sue potenzialità e adesso è attesa. Attenzione agli Osalsimi che alterno su categorie però più impegnative e a questo controcorrente numero 3 dello schieramento che scende da Roma con buon curriculum e speranzose prospettive. Andiamo a sentire il mister Sebastiano Fontana impegnato con un Win Hunter che si è espresso bene in Sabio ultimamente e cambia tracciato. Sì, è una corsa abbastanza aperta, cavalli un po' più tenibili secondo me che scende di categoria, è l'Eosalsimi che corre abbastanza bene, ha un bel peso e noi vogliamo sfruttare i 51 kg, giustamente proviamo sull'erba che lui una volta ci ha vinto però è adattato su terreni un po' più soffici. Vediamo se si adatta bene e poi vediamo che succede. Comunque come dicevo mi piace Leo Salsimi, San Giorgio i Grossi, cavalli più temibili e Rock in the Croc. Apertura del convegno qui a Siracusa per il premio Espluà, una vendere sui 1700 metri in pista grande per i tre anni e oltre, sono cinque soggetti al via, l'unica femmine è Gold is Good che veramente ha fatto bene alla prima Siracusa, un secondo posto che fa ben sperare. Grey Dancing ha buoni riferimenti e regolarità, Laguna Drive è qualitativo, non ha dimostrato ma in questa categoria può farlo, Sherry Chop si raccusa subito un terzo posto in sabbia ma cambia tracciate, Wonder Ride regolare di buoni mezzi e accorcia, vedremo chi la spunterà. La seconda invece è una reclamare sui 1300 metri in pista sabbia dove sono pochi riferimenti anche perché sono i due anni impegnati nel premio Escalation. Tra i sei partenti al debutto in tre, 1-2-6, piace di più Soprambanna che è data in progresso e atteso Fox on the run, ci riprova anche Mr. Guerrieri e sentiamo proprio il fantino Daniele Scalora. Mr. Guerrieri con Daniele Scalora in sella, che corsa ti aspetti? Il cavallo ha debuttato nella Maite nella settimana scorsa, non ha corso tanto bene, ritorno a correre perché sui lavori di Mattutini ha fatto vedere di valere tanto, io ho avuto fortuna di montare il lavoro, un cavallo da grossi mezzi però è un cavallo che ancora si deve esprimere. Il cavallo che spicca è il tre di Fox on the run perché su una debutante per maschi finisce quarto, venendo bene in fondo, ora è il mille e tre della pista in sabbia per i due anni, poi ha visto che Brancata ha messo i parocchi e secondo me vuole vincere questa corsa, che secondo me è il cavallo che può risolvere e poi dò molta fiducia al debuttante di Scuderia e di La Spia, che è un cavallino che si muove abbastanza bene. La quinta corsa a Siracusa è il premio Escobar, i tre anni impegnati sul miglio di una vendere in pista grande, piacciono gli estremi del campo partenti con autenti kart e yellow fox che in linea potrebbero adesso esprimersi bene in questa compagnia. Contrapponiamo Maddamento, Dutli è impiegato su varie distanze e terreni ma sempre presente, e Nadir Jack che a Siracusa ha fatto già benino. Attenzione a Tanai, ha bene su distanza. Sentiamo allora Erasmo Lopiparo impegnato con Maddamento. Una vendere in cui Maddamento potrebbe avere la sua buona chance? Sì, è una cavallina sempre positiva, la corsa secondo me per la categoria è abbastanza difficile, però speriamo bene per lei. Gli avversari più temibili allora quali sono? Yellow fox, sicuramente su di tutti, Bordendamani e Tanai. Ricordiamo l'incognita che se sta bene decide di correre è sicuramente un golo in prima categoria. La sesta corsa è sul doppio chilometro in pista sabbia per i tre anni oltre, è peraltro una corsa abbinata all'Ipica nazionale, un handicap discendente che pone i primi quattro della scala PES sicuramente con maggiore chance rispetto agli altri. Piace Night Dog, ben a Siracusa nelle sue due uscite, è un po' più pesante, naturalmente con 61 kg, Cami può far bene rispetto a Firun e a Teo Besli che rimangono appunto le valide alternative. Europenco invece è il reddito da vittoria e ha il confronto con gli anziani ma potrebbe già subito far bene. Attenzione anche agli altri, proviamo ad analizzare la corsa con mister Erasmolo Pipora impegnato con il numero 4. Europenco invece in questa prova di chiusura corre bene, quante chance dai? Non lo sappiamo perché è la prima volta che incontra gli anziani, fino adesso tutti i tre anni hanno avuto poche chance, comunque hanno corso ottimale, speriamo che lui capovolga i pronostici e almeno una piazza riesca a portare a casa. Pronostici a favore di chi? Sicuramente Tuesbio è una quella che vince 1-8-8, se sta bene è sicuramente la quella principale, insieme a Firun, poi secondo me al peso anche a Monadelfia o Capitan Globe sono molto pericolosi. E da Siracusa è davvero tutto, buona Ippica. Il trotto invece di lunedì 11 giugno all'ippodromo del Mediterraneo di Siracusa offre 7 corse in programma. Iniziamo subito con la Triscorte Quintè che è abbinata al premio Plutone, la settima di Siracusa alle ore 19.05, una a reclamare per professionisti con indigeni di 5 anni oltre. Bellissimo il campo partenti numeroso, 15 alla via con Ultimus, il numero 15 appunto, che può essere il soggetto più rodato. Conferma la sua regolarità peraltro nell'anello veloce di Siracusa. Poi ci sono tanti avversari, dal rispetto P, discreto appunto con le sue piazze a Siracusa, Tango Rivalgo vince già sul tracciatore Tuseo, Pedadizo, ancora ci sono altri soggetti anche schierati in prima linea che hanno chance. Ma affidiamoci ai pronostici degli addetti ai lavori, soprattutto al driver Marco Spina e ancora all'allenatore driver Lorenzo Larosa. Sì, in questa corsa ho quattro colli in corso, il numero 3 è Damoni Laxmi, l'11 Uberallest, il 12 è Tuono Deimer e il 13 è Thomas Dulac. Penso che la migliore carta di scuderia sia Tuono Deimer perché mi è piaciuto tanto negli ultimi lavori. È una corsa un po' dura, è difficile dare pronostico. Se non sbaglia sicuramente è quello da battere, il numero 15 di Ultimus. Poi proviamo il numero 5 di Udini Game, un collo che viene da fuori e poi Tuono Deimer. E' una corsa difficile da pronosticare perché su questa pista serve un po' di tempo per cercare i soggetti a quale livello arrivino. E allora, io ho schierato Passpartout BLV, non ho un gran bel numero, ma comunque è un cavallo che se riesce a trovare una posizione ed avere voglia di correre può contare nel quintè. Che dire, c'è un cavallo con l'uno che a me piacicchia che è il Renoir Rab. Poi metterei il numero 4 Tessis IGV perché è un cavallo un po' bisbeticuccio, ma se riesce ad andare liscia può contare. Poi non escluderei il numero 8 Special Show, il 9 Passpartout BLV, difficile, veramente difficile. Poi proverei con Thomas Dulac. La corsa con maggiore dotazione è invece il premio Pianeti, la sesta corsa, 7 mila euro di Montepremi per un invito abbinato all'Ipica nazionale. E' una corsa dedicata ai professionisti con 10 soggetti al via. La linea da seguire potrebbe essere quella tracciata da Patrick S. Se sa vincere Siracusa bene, più volte si trascina dietro Tacos Fonte e Stephen McQueen. Attenzione a Ultra Cajemar che comunque ha fatto bene, ha dimostrato di avere forma e condizione. Ubico Castenada, partiamo proprio da Lorenzo La Rosa che dice un soggetto di mezzi ci sta. E allora partiamo da Lorenzo La Rosa per poi andare da Marco Spina, proprio che è presente al numero 2, Ultra Cajemar. E allora sono due cavalli che vanno, tutti e due Patrick ha fatto due presenze e due vittorie qui a Siracusa. Ubico Castenada, l'altro giorno me lo son visto correndo all'esterno, quindi la paga un po' in arrivo ma ci stava perché scendeva da Roma e il cavallo non era prontissimo. E' una corsa questa un po' tosta perché è aperta. Cosa dire, io in questa corsa qui metterei proprio i miei due, non li toglierei. Poi c'è questa nuova presenza di De Philips con Tornado del Vento, non ho seguito bene sto cavallo ma per muoversi da Taranto penso che è un cavallo che possa contare. Oddio, Tacos Font, Regali, cavalli ci sono. Io direi Tacos Font, Tornado del Vento e poi alternerei Ubico Castenada, Patrick S. Qui in Sulchi ha Ultra Cajemar, come valuti questo contesto? La corsa è dura, alziamo tanto il tiro però purtroppo siamo costretti a fare queste corse, anche il cavallo sta correndo bene ed è in pieno ordine. Il mio favorito rimane dal Costo Font, sul numero 10 Patrick S, il numero 9 di Tornado del Vento che è venuto da Taranto fino a qui, penso che l'avranno pronto. L'apertura del convegno di Trotto lunedì pomeriggio sarà alle ore 16 con un premio Marte, un reclamare con indigeni di tre anni legati ai professionisti, sono sei soggetti al via. Piazzano quelli di Di Paorzo, il numero 3 soprattutto Zelig Rab che vince a Siracusa e il piazzato Zoe Rab. Addirittura nella corsa hanno fatto primo e terzo. A Ciuffa qualche piazza anche il numero 2, attenzione a Zacapa definita interessante da Lorenzo La Rosa. Si apre il convegno con Zacapa e con quante possibilità di vittoria? Intanto buongiorno a tutti. La cavalla è una cavalla fra virgolette interessante, io la gestisco da poco perché viene a correre da pendolare, insomma la cavalla è stata gestita sempre da Lo Verde. Come dicevo è una cavalla di mezzi, però bisogna fare qualche piccolo accorgimento di impostazione, lo stiamo facendo, speriamo che se riusciamo a sistemarla nell'impostazione è una cavalla che può contare perché ha mezzi. Andando alla corsa, io ripeto ho seguito molto i cavalli qui per via della distanza della scuderia, però cosa direi? Io qui darei un po' le chance ai cavalli di Porzio, quindi in questo caso Zelig Rab, Zoe Rab e poi come terza cavalla metterei Zacapa. Il premio Nettuno è la seconda corsa, gli allievi impegnati in una categoria indigeni di 5 anni, la categoria G7 al via, ci affidiamo al pronostico di Lorenzo La Rosa. E allora Noa B è un cavallo di trascorsi importanti, veniamo con una sola corsa di rientro qui a Siracusa dopo un lungo periodo di fermo, quindi è un cavallo abbastanza pesante, un cavallo di mole, quindi vuole almeno un paio di corse per venire in condizioni. Il cavallo sta bene, non è al top della condizione, però su 7 cavalli se la corsa viene giusta potrebbe anche contare, magari per una piazza. Sulla carta invece chi conta di più? Ma sulla carta è una corsa apertissima, io ho visto correre ultimamente Tuscolo MN che ha fatto tutta la strada allo scoperto dove ancora arriva quinto, quindi è un cavallo che può contare. C'è Nabucco Jet, è un cavallo che parte forte, può contare, Terrible Joy è un cavallo che va, è una corsa apertissima. Io direi che come favorito metterei il numero 3 Terrible Joy, poi il numero 1 Tuscolo MN e magari per una piazza il mio, il numero 7 Noa B. La terza corsa è il premio Venere abbinata all'IPICA nazionale, è una condizionata con indigeni di 4 anni, ci sono 10 soggetti che partecipano al campo partenti, piace la linea tracciata da Vivir Contigo, ottimi mezzi, vince bene a Siracusa, Velluto del Pri lo segue più volte anche se fallace potrebbe avere tantissima chance. Attenzione al numero 2 di Voici a S, Siracusa sta facendo davvero bene, regolarissimo in forma, Vuitton ferme, capace a Siracusa di vittoria, che è il numero 1 dello schieramento, sta lavorando bene anche Villa Orba Jet, quindi sentiamo il parere di Marco Spina proprio su Velluto del Pri e anche Lorenzo Larosa, che è presente il numero 4 di Varano Jet. Quante le chance con Velluto del Pri? Le chance sono buone con Velluto del Pri, la distanza non dovrebbe essere un problema e ci giochiamo le nostre chance, però per me dall'ultima vittoria il mio favorito rimane Vivir Contigo, sul numero 2 di Voici a S e poi Velluto del Pri. Allora Varano Jet è un cavallo che ci stiamo lavorando sopra più che altro sulla ferratura, perché è un cavallo che ha avuto dei problemi fisici e quindi di conseguenza meccanici, e allora stiamo un po' ricambiando una ferratura per trovare l'assetto migliore. E' una distanza dove per adesso non è la sua, la partenza in salita lui la potrebbe soffrire, quindi sto correndo proprio per fare degli accorgimenti e vedermelo. Questa corsa, questa corsa c'è un cavallo che va forte ma spesso fa il birichino ed è Velluto del Pri, è un cavallo che potrebbe dire la sua. E' chiaro che il cavallo da battere è Vivir Contigo, il cavallo che va forte. Poi metterei come secondo Villa Orba Jet, poi Voici a S il numero 2, il mio lo lascerei stare. La quarta corsa è il premio Saturno, anche questa abbinata all'IPICA nazionale, è un invito per professionisti con indigeni di 5 anni, sono 12 i soggetti che frequentano il campo partenti. Il miglio da affrontare, reduce da buone piazze, per esempio il numero 7 di Ottaviano DL, anche se si guarda in seconda fila il numero 12 di Dundrast. Vediamo cosa presenta Lorenzo La Rosa con il numero 7 e il numero 8 unicum e ancora il numero 3 dello schienamento Turner AS. Io in questa corsa guido Turner AS, dove ha fatto una corsa di rientra circa 20 giorni fa. Ha ricorso l'altro giorno il Gentleman, gli sbaglia dopo lo stacco, dopo 100 metri dalla partenza, però poi l'ha lavorato e non mi ha convinto tanto, quindi me lo sto guidando proprio apposta per rivedermelo. Poi in questa corsa abbiamo Ottavio DL, dove l'altro giorno corre benissimo e penso che possa avere delle chance che lo guida mio figlio. E poi unicum, corre anche benissimo lui due settimane fa che lo guida mio nipote, quindi sono due cavalli che possono dire la sua in questa corsa qui. Gli avversari allora? Gli avversari, io credo che l'altro giorno corre bene Tundrast col 12 in questa corsa, Nuvolari di Stra che se riesce ad andare liscio è un cavallo che va forte e poi metterei Ottavio unicum. E chiudiamo con l'analisi della quinta corsa e il premio Giove. Ci sono indigeni di 3-4 anni schierati per una condizionata sul miglio. Vediamo che sono 8 soggetti al via dal campo partenti. Si è ben comportata Vienna Grif, ma soprattutto pluripiazzato Siracusa. Voltaggio, sentiamo allora Lorenzo La Rosa. Una condizionata dove Lorenzo La Rosa schiera Vircoget e Virtus Caff. Allora, Vircoget è un cavallo tutto sommato semplice. L'ultima sbagliata d'arrivo perché rimane chiuso, sempre in gentleman. Poi si libera tardi, magari la premura di andare a prendere una piazza, il cavallo sbotta via di galoppo in discesa, quindi ci può stare. È una mista di 3-4 anni dove Vircoget può contare per una piazza. Virtus è un cavallo che va, ma era gestito da Loverdi, adesso lo sto gestendo io. Ha fatto un paio di corse, stiamo cercando anche a lui di impostarlo. Se riusciamo a metterlo in linea è un cavallo che conta. I cavalli, i cavalli in questa corsa penso che siano Voltaggio, Virtus Caff e Vircoget. E con questo da Siracusa è tutto. Arrivederci. Grazie. Grazie.